La Chiesa italiana piange uno dei suoi pastori più amabili e amati, detto con le calzanti parole del telegramma di Cordoglio, affirma Francesco, il cardinale Dionigi Tettamanzi è morto oggi alle 11 a Villa Sacro Cuore di Triugio, vicino Renate, suo paese natale, nella diocesi di Milano, di cui era arcivescovo emerito, classe 34, ordinato sacerdote nel 57 dal futuro Paolo VI. Tettamanzi iniziò a dedicarsi all'insegnamento e agli studi di teologia e morale, firmando numerosi scritti, specie su famiglia, matrimonio, bioetica. Nell'89 Wojtyla lo elegge arcivescovo di Ancona. Due anni dopo Tettamanzi è segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana fino al 95. Il Papa gli affida prima Genova, creandolo cardinale nel 98, poi Milano nel 2002, dopo i 22 anni di episcopato Martini. Da cento e più anni un cardinale arcivescovo non era spostato di sede. Il suo nome sui giornali ricorre spesso per il dopo Wojtyla. Oltre alle doti di studioso, Tettamanzi si fa apprezzare dalla gente per l'umanità semplice e cordiale. Dalla Cattedra di Ambrogio lascia segni profondi, con idee come il Fondo Famiglia Lavoro per le vittime della crisi, con la spiccata sensibilità pastorale per le famiglie ferite, ad esempio, con gesti e parole incisivi su fronti come lavoro, casa, disagio sociale, migranti, minoranze religiose. Nel 2011, per raggiunti limiti di età, lascia infine l'incarico al cardinale Scola. Di lui raccontava la madre Giuditta, morta a 101 anni nel 2012, che fin da bambino realizzava paramenti di carta colorata per fingere di celebrare la messa. Tettamanzi era gravemente malato già il 25 marzo, quando comunque volle essere in Duomo per l'ultimo incontro con Francesco a Milano.